Pensi è una società di ricerca e sviluppo che si occupa di risparmio energetico e progettazione sostenibile. Si rivolge a tutti coloro che vogliono risparmiare energia e vogliono vivere in ambienti climaticamente di qualità per vivere e lavorare. L'obiettivo di Pensi è l'integrazione architettonica dei sistemi solari tecnologici negli edifici per la produzione di energie rinnovabili. Otteniamo i migliori risultati combinando diversi fattori che sono il risparmio energetico, i sistemi impiantistici a basso consumo, l'autoproduzione di energia, le misurazioni con strumenti adeguati che ci permettono di monitorare il risultato ottenuto e proponiamo agli nostri investitori dei incentivi e soluzioni per raggiungere un pareggio di bilancio sicuro e con tempi rapidi. Lo spin-off è composto da un gruppo interdisciplinare di docenti, dottori di ricerca e che si avvalgono della collaborazione di giovani laureati in architettura e giovani professionisti.